Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi. Riprendiamo in mano la nostra vita ascoltando un brano dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù stava insegnando, sedevano là anche dei farisei e maestri della legge venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati. Gli scrivi e i falisei cominciarono a discutere dicendo Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto? Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire ti sono perdonati i tuoi peccati oppure dire alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio. Pieni di timore dicevano, oggi abbiamo visto cose prodigiose. Parola del Signore. Ancora una presentazione di Gesù quale taumaturgo, ma oggi ci viene detto in modo molto chiaro il motivo per cui egli fece dei miracoli al suo tempo, perché fosse chiaro che nelle sue mani aveva il potere di perdonare i peccati. Gesù non fa il mestiere del medico o dell'infermiere. Se ha beneficato qualcuno lungo la sua vita, in questo mondo l'ha fatto solo ed unicamente come segno esterno della sua potenza salvifica. È più facile dire a qualcuno sei salvato dal tuo male che dirgli sei perdonato da tutti i tuoi peccati. Eppure Gesù è venuto proprio per questo, perdonare tutti, perdonare senza stancarsi. Ma nella dinamica del perdono notiamo anche oggi un elemento imprescindibile che è quello della fede. Gesù salva dal male per evidenziare che sta perdonando i peccati. Ma tale perdono non è qualcosa che avviene come un automatismo. C'è bisogno di crescere nella fiducia in lui. Dobbiamo avere fiducia nella sua azione. Chiediamo oggi di poter far aumentare questa fiducia in Gesù e che accada in noi il vero miracolo, che non è quello di ricominciare a camminare, ma è quello di sentirsi davvero perdonati e abili a vivere una nuova e santa vita. Io per il momento ti saluto e ti do appuntamento a domani. Buona giornata.